Buonasera a tutti, eccomi qui, fine serata, abbiamo finito questa giornata molto impegnativa sotto l'ambito burocratico. Che dire, la giornata ci ha dato veramente grande gioia in quanto piovendo fuori era più piacevole rimanere all'interno a fare la burocrazia. Abbiamo controllato tutti quanti i contratti perché per quanto riguarda a metà mese verifichiamo i contratti che dovranno essere aggiornati, quelli che dovranno essere sottoposti all'imposta di registro per il rinnovo e abbiamo consegnato le chiavi a due coppie per due mini appartamenti che abbiamo affittato in questi giorni. Che dire, sono veramente felice anche di aver dato la possibilità a queste coppie di provare una nuova esperienza che è l'affitto. Tuttavia se devo dire la verità sarebbe meglio comprare però sono di parte quindi vabbè facciamo finta di niente. Sabato ho fatto delle visite nei cantieri e sono anche qui felice perché abbiamo finalmente venduto tutti gli appartamenti al piano terra del progetto importante di Volpago. Vi ricordate quello che ho il cap arancione dove vi faccio vedere gli attici e entriamo nel cantiere? Bene, lì è stato venduto tutto al piano terra, rimangono i due attici. Se siete interessati gli attici sono veramente molto grandi e al sito www.irenemerlo.it troverete tutte le indicazioni, i metri quadri e tutte quante la parte tecnica assieme alle planimetrie. Che dire, oggi ho anche definito un incontro assieme all'ASCOM, l'associazione della Conf Commercio, perché in merito all'incarico che abbiamo di vendere un'attività stiamo anche definendo di proporre i bonus che sono per l'imprenditoria femminile o per l'imprenditoria giovenile. Quindi a breve assieme al responsabile di filiale di Montebelluna, Cristian Brugnaro, faremo questa piccola intervista che ho piacere, anche perché di questa attività vi devo dire una cosa che sono rimasta veramente impressionata. Allora, normalmente noi facciamo affitti cessioni d'azienda e le attività durano dai 5 ai 10 anni, dopodiché le persone un po' per idea o per volontà cambiano anche modo di lavorare. Questa attività ha avuto tre cambi che sono durati sui 20 anni, 25 anche l'uno. A portare la gestione di questa attività sono state delle donne e tutte sono andate in pensione, quindi non è un'accessione data dal fatto non va al lavoro, cedo e faccio altro, ma è il lavoro va bene ma io vado in pensione e mi godo la mia meritata pensione. Quindi daremo degli strumenti anche alle persone che fossero interessate perché mai come adesso lo Stato ci dà la possibilità di avere dei bonus e dei fondi anche a fondo perduto. Quindi guardate, rimanete sempre qui, iscrivetevi al mio canale così avrete anche questa intervista con Cristian Brugnaro dell'ASCOM di Montebelluna. Io vi lascio e vi auguro una buona serata e continuate a seguirmi. Se vendi casa, vendi casa con me!